Un ragazzo che oltretutto viveva su una carrozzina, a 35 anni, improvvisamente una notte è rientrato, è capitato l'irreparabile, quindi non hanno fatto in tempo ad intervenire per riuscire a salvarlo. Quindi noi dedichiamo questa serata a lui, il suo nome è Marco Petrillo, forse qualcuno di voi lo ricorda, era sempre con questo gruppo straordinario di ragazzi che lo accompagnava, che lo portava in giro e insomma ci è sembrato importante ricordarlo perché era qua anche prima delle serate dello zaino e questa qua, quella proprio dedicata a Cedentano e Amina aveva detto che sarebbe stato presente assolutamente perché erano le due persone che amava di più come cantanti, come portatori della musica italiana a livello veramente più alto. Quindi noi vogliamo salutarlo. Grazie. 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 . Grazie.